Il tuo Whatsapp di positività per il giorno di ritorno, da elemento di esperienza, da capitano della squadra. L'elemento di positività, Whatsapp per positività, sicuramente è il fatto che non molliamo, che noi stiamo qua, stiamo combattendo e sicuramente non lasceremo andare niente, nulla al caso. Lo stiamo facendo già in allenamento, ci stiamo dando dentro, ci alleneremo come sempre anche per Natale, anche per queste feste. Come ho già detto, abbiamo chiuso il giro di ritorno, adesso si riparte con il giro di ritorno, adesso serriamo le fila perché ci aspetta un inizio di anno importante. Spero che ci possa dare delle soddisfazioni.